Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione di tutte le monete verdi della settimana 4 per la stagione 3 di Fortnite. Sono 4 in totale. La prima moneta si trova qui praticamente, a questa casa qui dove c'è Brughiere Brumose, è la classica casa disco dove c'è all'interno appunto la musica da discoteca con il tappeto dove potete ballare. Si trova qui la moneta, vedete? Sotto la scala, quindi la raccogliete ed ecco la prima moneta. La seconda moneta si trova al lago Languido, qui praticamente, vedete? Questa roccia qui al lago Languido, quindi la raggiungete ed è lì che trovate la seconda moneta. Adesso ve la mostro ovviamente. Quindi non è situata al centro di lago Languido, ma qui sulla montagnetta ed è visibile già da lontano. Eccola qui, questa è la seconda moneta verde su 4. Quindi la raccogliete e procediamo con la terza. la terza moneta è a Parco Pacifico, qui in alto, qui vedete? In alto qui troverete la terza moneta. Prendete magari come punto di riferimento questa casetta che è vicino, vedete? La terza moneta verde si trova praticamente su questa collina tra gli alberi ed è ben visibile dall'alto. Vedete? Eccola qua. Questa è la terza moneta su 4. L'ultima moneta verde, quindi la quarta, si trova praticamente sempre vicino a Fattoria Frenetica, ma qui, dove c'è questo piccolo boschetto vicino l'ex Cinema Drive-In, praticamente. Anche in questo caso non potete sbagliarvi perché la moneta è ben visibile già dall'alto, quindi non è nascosta. La trovate praticamente qua, dove vi ho indicato io, qui, e potete raccoglierla non appena arriverete dove c'è questo boschetto. Vedete? Sotto l'albero ecco qui la nostra quarta e ultima moneta verde.